Allora, ciao Chiara, benvenuta! Questo è il nostro tagliere più grande, è il Megolo Gnocco D'Onte. Sono 3,5 kg in totale tra fettati, salumi e gnocco. Hai 12 tipologie di salumi e 4-5 tipi di formaggi. Te ne ne ecco qualcuno, hai il salami classico, il padano, il borsotto, la bresaola, i nostri salumi cotti che sono la porchetta, il cotto, la mortadella, poi passiamo a prosciutto crudo, hai lo spetto. E invece i formaggi sono burrata di bufala, ricotta di bufala, poi abbiamo qualche toma e caciocavallo, accompagnato da miele e marmellate fatte in casa. E hai 100 minuti. Dai, proviamoci. Buon appetito. Grazie. 3, 2, 1, via! Grazie. Parte la sfida. Vai! Andiamo a fare una coppiata particolare. Formaggio, confettura di mele, prosciutto crudo e gnocco. Sono passati i 10 minuti. Ho cambiato strategia. No, voglia di brecciaola con limone. Gira la ruota. Riccola considerazione, se non voglio stasera per accettare il video, veramente non spesso di vista. Grazie, Carola. Guarda, portano una crema di buonanurella. Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda! Lo zucchero ci tamperà. Vediamo questi salumi. Salumi ottimi ma non li voglio più vedere. Facciamo un po' di spazio. Visto che il salato mi sta uccidendo mi faccio salvare dal dolce In questa creciocolina abbiamo rispettivamente nutella, crema di pistassi e crema pasticcello Grazie mille Attiviamo l'utero e il frinto Allora bravissima, ha quasi finito, ovviamente qualcosina è avanzato 12 gnocchi e merito 12 gnocchi, beh io posso dire che sei quella che ha vinto più di tutti Anche se la sfida non è superata Mesiamo? Adesso ti stiamo portando lo stesso regalino andato a prendertelo Perché è meritato No, no, no Andiamo la magliettina Allora, ti tiro solitamente le magliette, le metto in mezzo ai trofei Ma questa scritta è costa bella, che non posso non indossarla per un reggis Ragazzi, sfida terminata, non ho vinto però è stata una bellissima esperienza Grazie a tutto lo staff, a tutto il pubblico E noi ci vediamo al prossimo momento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti